Amici di Quarta Parete, buonasera, sono qui al Teatro Ghione in compagnia di Paolo Trestino, Edi Angelillo e Giancarlo Ratti per parlare di Che Serà. Buonasera ragazzi. Allora, premesso che io ieri ero in platea, perché non potevo mancare a questo spettacolo che devo dire mi ha profondamente colpito, come ho detto ad Edi appena arrivato in camerino e ho detto questo è uno spettacolo estremamente delicato, perché affronta il tema dell'amicizia nel modo migliore e seguendo una battuta che avevo fatto su Facebook ho detto la grande bellezza di Paolo Trestino. La grande bellezza in che senso? Metaforicamente. È uno simoro, come il caldo freddo, insomma. Paolo Trestino è un bello. È un complimento ovviamente. Guarda, io non smetto di ripetere in tutti gli incontri che facciamo, anche le interviste che abbiamo, che questo lo considero io, l'ho sempre pensato, ma poi è una cosa che condividiamo, un grandissimo inno all'amicizia. Poi ci sono tante altre cose che succedono, una in particolare che è molto forte, però lo abbiamo anche nel riscontro di scena, poi rimane sempre lì, perché poi alla fine quello che viene fuori è questa grande amicizia che si respira, la grande empatia che c'è tra di noi in scena, che man mano sta anche travalicando i personaggi, perché ormai cominciamo a capirci con uno sguardo, a aiutarci, a sostenerci. I meccanismi si affinano. Ma a parte quello, si affina anche la nostra conoscenza personale, inevitabilmente ci si vuole più bene nella vita, ci si vuole più bene poi in scena, e poi ancora nella vita, e quindi è una cosa bella. Che non è una cosa da poco, volersi bene nella vita, non è proprio una cosa da poco. Però io vengo qua, mi sembra di andare a trovare degli amici, a casa di amici, un cui sto bene, capito? Quindi è una cosa bella. Edi, possiamo dire un testo che fa battere il cuore? Assolutamente, ma in tutti i sensi poi. Però non diciamo niente, perché questa cosa del cuore è molto potente nello spettacolo. Devo dire che Paolo è stato bravo come regista, molto bravo, perché ha fatto, diciamo, poteva tranquillamente scivolare e crollare nel retorico, proprio a livello di regia. Invece è stato molto attento, siamo stati molto attenti, perché abbiamo poi lavorato anche molto sul testo, insieme, e lui è stato aperto ad accogliere, diciamo, dubbi che avevamo io e Giancarlo, e tra l'altro che aveva anche lui. Insomma, quindi è stato un lavoro proprio bello. Bello, perché siamo arrivati a salire sul palcoscenico contenti di quello che avevamo fatto. Poi ovviamente il risponso del pubblico è, insomma, è la ciliegina sulla torta, una bella ciliegina, una ciliegiona. Direi, è come una marina di quelle giganti. Giancarlo, in realtà testi sull'amicizia ne sono stati fatti tantissimi, a teatro, al cinema, e spesso la sensazione è che, come si dice a Roma, si butta un po' in cacciara, no? Le battutacce, i luoghi comuni, invece tutto questo qui non c'è. Allora comincio adesso a buttare in cacciara. Buttiamo in cacciara tutta questa simpatica chiacchierata. Ma rispetto a quello che dicevamo prima, in realtà, in questi mesi di convivenza amichevole, personaggio e persona si sono talmente mescolati che io gli ho resi partecipi di tutte le mie povere bassezze, di tutte le mie problematiche di natura di uomo. Lui viene da cucinare brasiliano anche fuori. Ma io da lui non ci vado a mangiare. Io sono amico quando siamo fuori che mangiamo fuori. Lui mi dice sempre, vieni, c'è la terrazza, vieni, abbiamo fatto, c'è questa pasta e fagioli. Tipo, fammi andare a casa. Loro hanno capito. No, ma dico, io li metto a parte delle mie povertà di uomo di 60 anni che comincia ad avere le problematiche tipiche dell'uomo. Ma non le figlie in congelatore. No, 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 io ho due maschi, peraltro. No, ma tutte le mie piccole cose. Io vedo in lui il medico, ecco, il medico dei miei problemi e in lei l'amica che non ho mai avuto. Perché tendenzialmente sono portato a pensare che gli amici sono uomini. Le donne le ho sempre viste un po' come delle probabili o delle impossibili amanti. Ecco, non è il caso di Edi, che è algida e al di fuori di ogni, come dire, una turri seburne, non si può neanche lontanamente sfiorare, diciamo. Dite qualcosa a voi, dovete stai fesseri. Hai un medico, sei un medico, tu hai un negozio di intimo che è accusata, tra virgolette, di aver venduto i competini alla figlia. Mamma che sei ancoli, insomma. Esatto, e tu sei un commercialista fiscalista, no? Esatto. Quello che mi colpisce, perché poi accadono delle cose che non diciamo, la tua serenità nell'affrontare comunque una certa situazione, no? Che un po', se vuoi, cambia anche lo spirito della commedia. Eh, questo fa parte della cosa che faceva prima, Edi, del cercare di togliere ogni tipo di retorica, perché sarebbe stato e troppo facile, e poi anche troppo, insomma, fuorviante, avrebbe portato fuori, invece deve arrivare, danzare con leggerezza su certi temi, la letteratura è piena, il cinema è pieno, di temi scomodi, affrontati con leggerezza. E uno per tutti è, non so, la vita è bella, per dire, no? Che parla di una tragedia in mano, eppure riesce a farti sorridere. Trattato con leggerezza, certo. Con grandissima leggerezza. E lui, che no? Che fa finta al bambino, che è tutto un gioco. Ecco, non posso dire che ho avuto degli esempi, però ho avuto esempio, ho sempre avuto in testa una persona, una persona che è un'attrice che oggi, non c'è più, ma oggi avrebbe 99 anni, credo che era Claudia Poggiani, attrice meravigliosa, che, diciamo, in un certo momento della sua vita è stata di una dolcezza, e di una capacità di regalare sorrisi veramente incredibile. E io ho sempre pensato a loro che ho rotto il scatole con questa cosa di Claudio Poggiani. Non me la sogna la notte. La sogna la notte, però, però, è importante, però rispetto a quello che diceva Edi, anche questo lo ripeto sempre, non lo sono stati compagni di lavoro straordinari, cioè, ma lo dico dal cuore, proprio. Poi il teatro è un gioco di squadra, è chiaro che poi ci deve essere uno a decidere, e quello poi alla fine so io, perché è evidente, però è importante ascoltare tutti, perché, perché primo, sono persone intelligenti con un grande istinto teatrali e tirano fuori molte cose importanti. poi di dieci che se ne tirano fuori, magari otto no, una è giusta e un'altra ti fa ding, campanellino, e magari te ne viene in testa un'altra. Ma è bellissimo questo, c'è il teatro è un gioco di squadra, e se non è così, per me è un'altra roba. Ecco, mi ha colpito molto una sua battuta quando dice io i soldi ce l'ho, tutto il resto quasi a dire che mi manca, no Giancarlo? Veramente però è una fotografia. Beh, lì, come dire, è un momento di passaggio e soprattutto per il mio personaggio che è dei tre, quello un po' più semplice, più superficiale, poi alle sue profondità. Credo che abbia una sua sofferenza poi alla fine. Assolutamente sì, ecco, in questo rapporto di amicizia che c'è tra noi tre, io ho in loro evidentemente il sostegno, però ho anche una vita talmente presa dal lavoro, da questi problemi piccoli, familiari, insomma, come hanno tutte le persone. Quando succede una cosa che non sveliamo ancora, il mio personaggio ha un cambiamento importante che coincide proprio con questo fatto di dichiarare apertamente che lui ha solo i soldi per dare un aiuto. Cioè, sì, ma volevo tornare a una cosa che, adesso vedi, mi sono distratto pensando alle cose che mi hai chiesto, c'era un pensiero che mi era venuto a proposito delle parole di Paolo. Il gioco di squadra, secondo me, però prevede una quarta presenza che è Roberta Scherl, che è l'autrice del testo su cui noi abbiamo potuto lavorare, ma veramente, cioè rendendo la sua scrittura, ognuno a modo proprio, come dire, molto personale, molto propria, molto intima. Una cosa che ci tengo a ribadire è che non tutti gli autori, chiaramente viventi, perché poi è vero, a volte si fa Shakespeare e si riscrive anche Shakespeare, però che un'autrice contemporanea nostra abbia accettato tanti cambiamenti, per me è una cosa meritoria, insomma, va sottolineata, perché è un concetto di grande apertura che spesso, avendo lavorato anche con altri autori, amici e meno, non ho trovato. E invece trovo che sia giusto. Questa disponibilità, insomma. Perché poi in realtà c'è un autore, è anche una persona che si mette un po' al servizio degli attori che ha. Questo è quello che penso io, no? Non si è arroccata, insomma. Sì, no, assolutamente. Vorrei sentire cosa dice Paola. Sì, sì, assolutamente. Roberta, e questo denota un'intelligenza non comune, perché le persone appunto che si arroccano, che dicono, no, questo è il testo, non si cambia, credo che siano un po', come posso dire, pochine, come spessore. Lei invece, ovviamente, c'erano delle cose che non le tornavano, ma quello, esatto, però ne avete parlato, insomma. Assolutamente. Beh, sì, per rispetto, assolutamente. Ma è intelligente, quindi una persona dice, questo può soltanto arricchire il mio testo, che già a prima lettura era strepitoso. C'era piaciuto tanto, certo. E così poi si è divilato, alla fine. Guarda, io, no, anzi, grazie Giancarlo, fa sempre, poi dice sempre così, mi dimentico di dire, perché poi infatti alla base c'è questo testo bellissimo che c'era da Roberta e che lei si è, io ogni tanto andavo da lei e gli leggevo tutte le cose che erano state cambiate durante le prove e lei quasi sempre condivideva, anzi ringraziava, era contento. Però d'altronde, dicevo, io sono sicuro che anche Luigi Pirandello, arrivava, che ne so, Marta Abba, diceva Luigi, secondo me sta cosa non funziona. Così il romano lo diceva. Luigi, oppure ai tempi di Shakespeare, esatto, ai tempi di Shakespeare ci sarà stata la Marta Abba o Giancarlo Ratti della situazione che avrà detto a William, namo, a Willy, a Willy, sta cosa non funziona, se questo che vede le nuvole a forma di donno, non esistono le donne, dai, come fai a immaginare una nuvole a forma alle donne? Ecco, io, grazie a Roberto. Bene, quindi un lavoro di squadra, no, insomma, comunque un lavoro di amicizia, in amicizia. Sì, sì, beh, in amicizia, allora, c'è il lavoro alla base, siamo tre attori che fanno questo, tra virgolette, mestiere che... che vi volete bene, dai. Allora, come dice lui, è un lavoro di squadra, il teatro non è il cinema, non c'è alla fine il montaggio, oppure che dici le battute e l'altro non sa neanche che stai dicendo, qui è tutta una questione di, cioè, ci dobbiamo sentire tutti e tre, la sera, quando andiamo in scena con un'occhiata, con un piccolo movimento, ci capiamo e questa è una cosa bellissima che soltanto in teatro avviene e poi per fortuna, insomma, ci si stima prima di tutto, io trovo che loro siano bravissimi come attore, mi facciano da morire e credo che la stima sia reciproca. È reciproca, sì. Come? Che fai con la faccia? È reciproca, è reciproca. È reciproca. Io avrei preferito un'altra attrice. Sì, lui voleva Manuel Arcuri, Manuel Arcuri voleva, Alba Parietti, chi voleva? No, volevo Nunzia Schiano. Chi è? Chi è? La mamma di Troisi, no, la mamma, la mamma di Siani in Benvenuti al Sud. Stupenda, meravigliosa. Edi è... No, senza di loro, non lo dico per dire, non sarebbe stato... La stessa cosa. Non sarebbe stata la stessa cosa. Perfetto. Allora, mega spottone, facciamo? Sì. Dai. Edi. Perché, scusa, proprio da me devi cominciare. Vabbè, allora, fino al 31 di marzo, fino al 31 di marzo saremo qui al Ghione con uno spettacolo che io definirei un gioiellino. Quindi, vi consiglio di non perderlo perché sono poche repliche ancora ed è veramente uno spettacolo che ti fa ridere e ti commuove e ti fa pensare. E uscire da uno spettacolo insomma e dire beh, però qualcosa mi ha lasciato dentro è raro, secondo me, ultimamente. Ciao, Alessino. Io mi associo alla collega e in più ancora getto una fiscia sul tavolo dura solo un'ora e venti. Quindi, voglio dire, no? Proprio in perfetto orario uno si può andare a mangiare una pizza per ripensare, per ripensare, parlare. Questo vuol dire, no? Sì, però posso dire una cosa. Mi è capitato di andare a vedere degli spettacoli che duravano tipo tre quarti d'ora. Dopo cinque minuti pensavo di essere lì da quattro ore e mezza. Non ne potevo più perché erano brutti spettacoli invece che duravano più di tre ore e li trovavo e non vedevo l'ora che, cioè non volevo che finissero. Ecco. No, quindi è una questione più di... Lui vabbè è perché pensa alla pizza, magna eccetera. No, dico cos'è? La gente che viene a teatro, la gente che viene a teatro, scusa, poi dice dai poi andiamo a mangiare. Ma poi mangiati sul serio vi pare? Noi mangiamo, questi mangiano tanto. Ma a me tanta gente chiede ma quanto dura perché poi devo andare a ristorante. E bevete pure. Beviamo. Lui soprattutto. Infatti c'è un colorito ormai. È rosso, in scena diventa tutto rosso. Io e Paolo ogni tanto ci guardiamo e dire questo è ubriaco o sbaglio? Posso dire l'ultima cosa dello spottone? L'emozione che c'è a teatro non la dà nessun altro. Non c'è televisione che tenga. Mi dispiace dirlo attraverso il mezzo che state guardando che è la televisione, il web, qualunque cosa. Ma la televisione non potrà mai competere ahimè con il teatro. Venite, venite, venite sul serio. Vale la pena. Visto che assume quest'aria un po' triste quando deve fare il serio, vero? Perché lui è pazzesco. Lui ci fa ammazzare dalle risate perché lui adesso è così serio. Ma è matto, matto col botto proprio e lo amiamo. perché è un vulcano. Ma sì. Questa cosa è un po' così serio. Venite a vederci. Sarà qualche bicchiere di vino? No, ancora non l'ho iniziato. In scena, in scena, in scena. Allora, grazie a Paolo Trestino, grazie ad Angelillo e grazie a Giancarlo Ratti che sarà a teatro Chione fino al 31 marzo, mi raccomando, ma venite sul serio. Grazie a voi. Ciao. Ciao.